La vittoria della destra è la vera bomba politica sul futuro del paese, ma non perché Berlusconi la destra e io sono di sinistra, no. Dico che è questo perché, secondo me, se riesce a stare insieme a governare con la coalizione, la vittoria del centrovista cambia i giochi, perché il famoso Nazareno con un Renzi così debole non si può fare più. Il che significa, cioè sarebbe pazzo Renzi a fare junior partner di questa coalizione e i suoi voti probabilmente comunque non potrebbero in questa situazione di forza dell'M5S essere profittevoli comunque anche se si sfilasse Salvini. Allora cosa ci consegna il quadro? Un centrodestra in salsa rinnovata perché per favore non parliamo sempre che torna Berlusconi, sì è bello ma va bene per i corrispondenti stranieri sta roba, no, che stanno solo Berlusconi. Il problema è che è un nuovo centrodestra, molto più complesso, con coloriture diverse e vince il centrodestra e avrà di fronte due partiti, entrambi i quali dovranno stare sulla sponda dell'antisistema. Auguri. Allora, benissimo, mi pare una previsione fosca nel frattempo...